Francesco, uomo cattolico e tutto apostolico, fu inviato da Dio a predicare il Vangelo di Pace. La statua di San Francesco è tornata ad Agropoli dopo un'assenza di circa tre mesi. C'erano tante persone ad accoglierla con il sacerdote Don Carlo Pisani, il sindaco Mutali Passi e il consigliere comunale Franco Crispino. Le opere di restauro sono state necessarie a causa dell'usura della statua e per riportarla al suo stato originario. L'opera risale all'Ottocento e l'ultimo intervento voluto da Don Cesare nel 1989 gli viene cambiato il colore dell'abito, oggi tornato nuovamente grigio cenerino, così come era usato dai frati conventuali in quei tempi. L'opera di restauro ha previsto il rifacimento delle dita delle mani e dei piedi, che erano ormai usurati, e la realizzazione del nuovo crocifisso fatto completamente a mano. Domani la solenne processione, il giorno di San Francesco, per le strade di Agropoli. In mattinata la benedizione degli animali, in serata i fuochi di artificio.